Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi un nuovo giorno su Envil Saga e ci spunta una storia del genere, ovvero che ci sono delle problematiche perché credo che siano dovute appunto al regno e al fattore che la guerra sta e si è imminente. Quindi cosa ci dice? Durante questo evento non possiamo costruire nulla, i prezzi del legno e degli ingotti sono molto alti anche delle materie prime, delle materie grezze e il prezzo degli ordini sono molto più bassi e i clienti arriveranno meno spesso e i mercanti ci saranno più persone che passino. Ah non lo so. Ora dopo di aver fatto questa roba qua che ci dice questa roba qua, prendiamo Arturo e non può smeltare niente e dato che lui smelta, io cambierei però, metterei Stone alla forgia e Arturo a scavare perché Arturo è molto più veloce di Stone, Stone proprio fa schifo. Esatto. Non lo capisci, non lo capisci, non lo capisci. Arturo vai qua. Perfetto. Allora, Stone fai quello, Arturo fai l'altro. Sta facendo? No, sta facendo nulla. No. Non fabbrica. Va bene. Fabbrica adesso? No. Perché quello è lento. Ok, vai, fabbrica adesso. Vai. Vai, 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 a manetta. Successo. Sono arrivati, chissi vogliono i soldi. Ah no, è quello di prima, barone, tu sei tornato. Ah. Madonna mia, questo, questo ci scassa lo cazzo. But, gli ho lasciato sempre i migliori ordini, ma tu, non sono sicuro. Devi, devo, devo praticamente rifarmelo, amico. E ti dimostrerò che sarò all'altezza, praticamente. Ah. Va bene, va bene. Signor, dobbiamo lavorare. Ok. Lavora pure. Ah. Ah, dici, grazie. Puttane effort into it. E il barone ha ordinato sette cerimonia sword. Eh, se fare... Che skip in, ma tu ti avrà. Allora. Make a verage quality sword. Terrible. Facciamo le fighe. Così le adora. Sei ingotti per farle. Va bene. Sette. Una. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ne abbiamo fatte due. A dormire. Qua, tre, due, uno. Forse abbiamo esagerato, eh. Arturo, basta dormire. Stone. Eh, Stone non può fare niente. Ci vorrebbe un altro apprendista. Beh, che è lunga la cosa, eh. Vai, uno. Ah, con due lingue. No, giusto. Vai. Beh, non è difficile. Ce ne mancano tre. Ce la possiamo fare. Due. Tre. Quattro. Vai. Ce la facciamo a farne due? No. Uno. Due. No. Aspettiamo il lingottolo. Uno. Due. Tre. Ce la facciamo? Sì. Ehi, son bravo, eh. Toh. Ah, le mie spade sono pronte. Come sono? Come sono, eh? Sono belle, sono belle. Sono fatte bene. Perfetto. Lui ci dice, perfette. Complimenti. Anche se tu sei ancora giovine. Ben fatto. Buon lavoro. Eh, tornerò un altro giorno a farti così. Beh, lord. I sogni di... Siamo tutti bene. Eh, da fare tools. Safety keeping. Va bene. Ok. Au. È stata dura. Allora, intanto buttiamo in modalità... ...un po' più lenta. Allora, abbiamo 199. Chi è? Che è? Che è? Queste cose? Il pirata dei carabie? 100... Ehi, Schmidt. Which is a i sud? Eh? Ah, eh. Sei perso. Non posso trovare la mia nave. Ma dov'è? Qua. Ma ho capito. Ma vi voglio vendere, però. Ok, che ci fa? Io sono il capitano, Schmidt. Ricorda che... Ascolta. Devi fare un... Una bussola. Altrimenti non sarà... Non saremmo... Non ce la fa a capire dove ho. Ah, 48. Tre di queste. Allora, questo ci vuole. Questo e questo. Va bene. Facciamo sta bussola. Ok, capitano. Facciamola. Allora, mentre tu fai... Facciamo la bussola. Come si fa la bussola? Scusami. Lui va a dormire. Lui c'ha fame. Allora, facciamo così. Mentre lui va a mangiare... Lui dorme. Che è stato sto rumore? Ah, questi sono i malus. Sarà lui che sta stanco. Vai, cucina. Sì, mentre lui dorme, si riposa un po'. Lui lo facciamo mangiare. Poi... Arturo... Va bene ancora. Perché ha aperto la porta? Non lo so. Arturo, dai, dai. Mentre lui finisci di mangiare... Facciamo questo step. Ok. Vai, Arturo. Perfetto. Tu adesso vai qua. E fai sta bussola. Vediamo. Solo le due lingotti. Questo è zero? Non ho capito sta cosa. Uno l'abbiamo fatta. Ha bisogno... Un oggetto dall'Antonio Store. Che cosa? Ah, questo. Lo dobbiamo comprare. Non ce l'ho poteva dirvi prima. Dobbiamo aspettare che arriva Antonio. Eccolo qua, Antonio. Aspetta, aspetta, aspetta. No, no. Stai di sopra, perché è arrivato Antonio. Antonio? No, no, stai di sopra. Antonio ce lo mette nella cesta. E noi lo andiamo a creare. E lo andiamo a pirata. Bravo. Perfetto. Che punta a sud. Basta seguire lago. E troverai ciò che cerchi. Perfetto. Grazie mille. Beh, l'alta forgia. Il prestigio della tua forgia. Più ti piace arrivare i clienti. E più alto, più arriveranno i clienti che pagheranno bene. Ok. Perfetto. Il prestigio è l'unica cosa. Le decorazioni. Il prestigio. Il prestigio. Le decorazioni. E ci siamo. Ok, va bene. Va bene. Perfetto. Adesso, mentre lui sta a dormire. Arturo, come sei? Sei stanco? Vai qua. Ora, io dovrei costruire un'altra stanza. Così, questi qua. Io ce l'ho un'altra stanza da fare. La metterebbi qua. Non la facciamo così? Oppure qua? Aspetta, aspetta. Qua. Ma la facciamo così o così? Perché vuole... Quanto si può costruire? Se ne può costruire un'altra. Quindi la facciamo. Roof type. Wall type. Così? O così? Hm. No, così. Ok. No. Questa qua. Ok. Poi la facciamo diventare una stanza da letto. Ok. Perfetto. Upgra... La stalla? Aspetta che forse ho cannato. Cioè... Ah, ah, ah. La stalla? La stalla? Non è la stalla. Eh... Questa è il design. No, no. Fermi tu. Ah, Arturo. Vai là. Questo chi è? Ah, questo è il costruttore. Perfetto, perfetto. Construction menu. Se io faccio così, lui mi dice cosa fare? Ah, ok. Ah, questo qua cosa sarebbe? Ah, kitchen. Ah. Bui forniture. Ah, letti, materassi. Ok. Io non so cosa devo upgradare. Come si upgrada. Come si upgrada? Cambio la struttura. No. Questo sceglie il tipo di stanza. Fornishing room. Questi li puoi spostare, credo. Se infatti. Ah. Ci possono anche vendere. E change room design. Però non vedo nessun aggiornamento qua. 100, 100. Estraneo ore. Se ne è facile. Che tasco ne è evitato equipment. Questo qua? Sare qui là. Ok. Possiamo assumere altre persone? Sebastien. Hmm. Non saperlo. Sta dormendo come un porco Stone. Credo che Stone sia arrivato il momento di svegliarlo. Ok. Allora. Prima di svegli. Aspetta. Aspetta. Facciamo così. Stone. Vai qua. Poi facciamo così. Questa stanza qua. La facciamo diventare. Una living room. E vuole. Un letto. Un tavolo. E una sedia. Ok. Allora. Compriamo. Le farnici. Un letto. Ce l'abbiamo 50? Sì. Poi vuole. Un tavolo. E una sedia. Un tavolo. Che non so che cosa se ne faccia di un tavolo. E. Una sedia. Perfetto. Così abbiamo una nuova stanza. Dove loro possono andare a dormire. Ottimo. Poi. Arturo. Energia. Ok. Facciamogli fare quest'altra cosa. E poi lo andiamo a far dormire un pochettino. Poraccio. Vai Arturo. No. Però può usare le cose. Arturo. Eh. Che cacchio fai? Non le posi. Vero? Non ti piace. Può usare le cose. Arco giù d'Arturo. Quanto sei stupido. Vai andare a dormire. Vai a dormire. Questa è ferma. È ingacchiato. Che sta a fare? Che sta a... Ma c'è qualcosa qua? Che sta a fare? Non c'è niente qua che fai. Vai qua sotto. No. Cosa vuol dire? Prestigiosi sono novellerie. Upgrade the stall. Cosa sarebbe? Sto provando a premere ma non vedo... Per il fatto che non hai soldi. E anche volendo non si potrebbe fare. Quindi li farò lavorare così. Dov'è? 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 Dobbiamo aggiornare sto coso qua. Non so come si faccia però va bene. Nel frattempo lui continua a lavorare. Bravo. Arturo a che punto sei? Io direi di... andare a smeltare e incominciare a fare un po' di soldi va? Poi prendiamo lui e lo portiamo qua. Cos'è che vuole? Un impiegato deve avere gli strumenti e il look books to complete the order. Aspetta strumenti e look books. Non ce l'ho. Sì sto dicendo che non ce l'ho. Va bene? Ok. Sono povero. Ti ho detto che non ce l'ho. Che è successo? Ok. Allora questo lo accettiamo e questo lo accettiamo. Vai. Tu stai mangiando. Bravo. Dopo che hai finito di mangiare eppure lenta a mangiare. Che succede? Maronno. Sempre soldi chiedono questi. Ce la facciamo con 10 vero? Facciamo anche questo. Vai. Ordino, ordino. Vai, vai. Che ci servono soldi che qua ci stanno massacrando. vai. Questo ce la facciamo e anche questo. Gli ultimi tre lingotti però eh. Ottimo. No tu no tu no tu ma perché tu? Tu cosa vuoi? Quattro lingotti ce li abbiamo? Eh. Dai ti accetto la richiesta non so se ce la faccio. Devo aspettare quello scansa fatiche di Arturo che è là sotto e non sta facendo niente. No, ma lì ci abbiamo noi. Eh. Vai Arturo. Uno. Ci sono accumulati gli ore. Il prete non so se ce la faccio. Ce l'ho fatta. Il prete si incavola. Il prete si incavola. Il prete si incavola. Il prete si incavola. Si è incavolato. Eh. Il prete si è incavolato. Ah. Weapon and armor. Eh. Che vuole Weapon and armor? Non ho capito. Weapon and armor. Non l'ho capito. Non ce la posso fare. Eh vabbè. Ci faccio questo. Ah signora. Ah. Manca signora. Stiamo fallendo come delle schifezze. Pure lui. Eh. Questo cosa vuole? Non lo posso fare. Tu sì. Tu cosa vuoi? Accetto l'ordine. Ok. Fatto. Tu cosa vuoi? L'ho fatto. Sì. Strigio. E non ce l'ho. Non ce l'ho. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Che bello. Guardatelo. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Mi spiace. Tu lo posso fare. Lo posso fare. Devo comprare questi libri. Dove sono i libri? No. Devo leggere i libri. Che non c'ho. Ah. Devo comprare la libreria. Quindi. Cioè io devo comprare. Do sta la libreria? No. Ascolta. 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 Dove sta la libreria? Dov'è? Dov'è la fornissing? Via nuovo fornitore. Qua. Eh. E book reading. È vuoto. Per il cibo. 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 È tutto cibo. Bookcase. Upgrade. Stalto. Unlock. Ho capito. Ma come si fa ad aggiornare? Vediamo. Boh. Non lo so. Forse vogliono soldi. Ok. Sì. Sì. Ho in debito. Ma tutti in debito. Qua i soldi non arrivano mai però così. Eh. Tutto a debito. Questo mangia pure. È a debito e mangia. Hai capito? Eh. E io paga. Questo cosa vuole? Tu eri in debito. Io mi ricordo a te col dentino così. Come si fa ad upgradare tutto? La strega. Il congiuragold. De ritorno. Che cosa vuole questo? Instrumenti. Eh. Non lo posso fare. Signore. Non lo posso fare. Si ingazzasse pure. Però è bello il tipo che dorme qua. Guardatelo. Che bello. Ah. Sono solo. È bello. Trovare. La filosofia. La pietra filosofale. Eh. Non lo posso fare. Signore. Eh. Non lo posso fare. Eh. Torna due volte. Signore. Eh. Non lo posso fare. Tu cosa vuoi? Questo lo posso fare. Lo posso fare. Tieni. Sette gingili sono buoni. Tre. Questo cosa vuole? Il catenale. Il catenale. Lo posso fare. Lo posso fare. Fagli anche il lucchetto al signore. Qua. Bravo. Tre con il lucchetto. Vai. Il lucchetto. E accettiamo anche il ferro di cavallo. Ui. Tanta roba. Andato lento. Uno. Cacchio. Questi qua sono buoni. E tre. Dove è? Arturo. Vi mettiamo qua. Cacchio. Il ferro di cavallo. Non ce la faccio a farlo. Ma. Questo sì però. bravo Arturo. Bravo. Cappello ce la facciamo? Vai. Vai. Fai il cappello. No. Vai. Il cappello. Il cappello. No. Che cosa ci sta succedendo? Fai questo. Il cappello lo dobbiamo saltare. Il cappello è quello che non ce la fa. Eh. Lo so. Mi dispiace. Mi sta sassassando. Tento. Te ne sei andato. Il ferro di cavallo ce la facciamo. Signora. Eh. Non lo posso fare. La signora ci prova sempre. Ogni giorno torna. Fai anche questo. Fai anche questo. Vai. Siamo una macchina che produce soldi. Vai. Vai. Ottanta. Questo. Deve me regolare. Lo possiamo fare? No. Non lo posso fare. No. È chiuso. 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 Andiamo a dormire. Guarda. È andato a dormire diretto lui. Proprio. Senza. Senza. La remissione di peccati. È andato a dormire. E. Dato che lui è andato a dormire. Io direi che prendiamo Ashton. Che si è impiantato qua. Non si muove più. Ok. E chiudiamo questo gameplay qui. Con lui che dorme. E mandiamo anche Stone a dormire. Bene signori. Io direi che è tutto per oggi. Spero che vi siate divertiti. Spero che vi stia piacendo. Questa nuova avventura in questo mondo strano. Mi sei incazzato come una mista. Non l'ho capito. Forse perché ha dormito bene. Come sempre. Lasciate un like. E un commento. E l'iscrizione è sempre ben accetta. Per supportare il canale. Come sempre. Siete medici. Alla prossima. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.